Gemme, Sabrina Salerno. Ecco a voi Vicenza. Vicenza è una città d'arte che vuol diventare una città di turismo, è una città d'autore non soltanto per il palladio ma anche per il tiepolo che abbiamo alle spalle, è una città che vuol proporsi all'esterno per i suoi monumenti, per i spettacoli che propone. È una città che noi vogliamo ricordare all'esterno anche per le opere meravigliose dei suoi artigiani orafi. Grazie a tutti.